E ci risiamo la Cina da un altro schiaffone a Bitcoin, un altro schiaffione ai mercati delle cripto e ragazzi si va giù pesante oggi nuova fanse di ribasso, continua la difficoltà dei mercati e delle criptovalute, andiamo a fare il punto della situazione per cercare di capire intanto cosa è successo, che stanno combinando con questa aggressione diciamo palese ai mercati e le criptovalute da parte della Cina che vuole diciamo adesso tutte le transazioni con le banche verso mercati cripto devono essere segnalate assolutamente bloccate, quindi insomma un grande afflusso di capitali che potrebbe venire meno per questo mercato, sicuramente queste sono notizie molto rilevanti che se mischiate, quindi miscelate con quello che sono la situazione dei miners che stanno togliendo, stanno spostando tutti quelli che sono la loro produzione dalla Cina verso probabilmente la parte del Nord America, insomma ragazzi è una diciamo frittata che palesemente stiamo vedendo portare scompiglio nei mercati, ancora fase ribassista, poi andremo a vedere quello che è la situazione ciclica attuale e ancora una volta siamo dentro sempre la solita situazione ma andremo a focalizzarci su quello che è il ciclo mensile in questione perché un po' di idee e volevo un po' ragionare con voi queste cose, poi andremo a vedere invece quelli che riguardano sono due indicatori fondamentali cioè due indicatori di macro che sono la market cap globale del mercato che ci va a indicare quella che è più o meno una fase potenziale di Bitcoin e poi ovviamente la dominance andremo poi infine anche a guardare quelli che sono i livelli della settimana da attenzionare per quanto riguarda Bitcoin con un occhio su ETH ok allora prima di andare avanti ragazzi su con i pollici vai con il mi piace perché mi dato una mano come sempre con questi video sono video stra importanti soffriamo insieme in questo mercato ragazzi vi faccio vedere anche una peculiarità perché la mia posizione long era rientrata a 40.000 39 qualcosa insomma intorno ai 40.000 e niente ragazzi quasi sicuramente entro questa sera sarà stoppata di nuovo quella posizione perché il mercato è ha fatto un fake break palese diciamo quella era la famosa domenica con il concetto la questione Elon è andata male questa volta allora per quanto riguarda invece poi le posizioni di breve quelle sono un po' più gestibili perché diciamo non sono cioè sono trading insomma quindi sono più gestibili ma andiamo a vedere con calma quella che è la questione ragazzi allora ho già qui lo screen così vi faccio vedere la questione insomma legata alla Cina perché crea un nuovo food e ovviamente ragazzi Bitcoin va giù pesante perché comunque la terza più grande banca cinese mette in guardia sulle crypto insomma le solite questioni dove parlano di andare a fare delle verifiche delle transazioni poi tra il dire e fare su queste cose ragazzi c'è sempre di mezzo il mare poi bisognerà vedere come verranno attuati se verranno attuati cosa significano veramente tutto quello che riguarda questo concetto però è innegabile che in questa fase la Cina sta facendo veramente un macello quello che invece è evidente innegabile è invece il fatto che nella transaction nelle hash rate del relativa alla blockchain di Bitcoin in total hash rate c'è un crollo ragazzi da metà maggio quindi un crollo della hash rate quindi stanno spegnendo delle macchine non è diciamo tantissimo ok paragonato all'incremento che era avvenuto nell'ultimo anno però è importante non è da poco conto cioè non è una semplice un semplice movimento del total hash rate cosa sono gli hash rate ragazzi di Bitcoin? sono le macchine del mining quindi quelle che creano la blockchain le stanno chiudendo le stanno staccando perché probabilmente i cinesi che hanno una quantità di hash rate importante della blockchain di Bitcoin li stanno spostando verso settori dove praticamente si sentono più sicuri anche perché sembra che la Cina li voglia rendere totalmente illegali se andiamo a fare uno zoom out di questo grafico per andare a vedere un po' com'era la situazione nei precedenti anni ci rendiamo conto che questa fase di bassista non è una fase di poco conto quindi questa cosa qui è palesemente legata alla questione che i miners stanno spostando le loro criptose e le loro macchine di mining gli ASIC allora se andiamo a vederlo invece poi nel lungo periodo quindi dalla nascita della blockchain vabbè allora qui ovviamente abbiamo questo grafico di natura esponenziale però andiamo a ridurre la volatilità con una media 30 giorni per avere poi una idea generale di quello che sta succedendo è un bel ribasso sicuramente una bella correzione vedremo se finirà così come ci aspettiamo quindi questa è una questione legata al hash rate insieme alla questione Cina in questo caso più tutto quello che è l'analisi ciclica barra tecnica quindi la debolezza che i mercati continuano ad avere ormai da giorni la vediamo tra poco hanno spinto un ulteriore caldo dei mercati a un meno 10 meno 11 con le altcoin che soffrono ancora di più ma questo era sulle altcoin me lo aspettavo devo essere sincero su bitcoin pensavo riuscisse a mantenersi più forte adesso andiamo a vedere l'analisi ciclica di bitcoin come facciamo sul mensile e questo è il grafico allora c'era una peculiarità di cui vi ho parlato una decina di giorni fa credo adesso non ricordo bene che era la questione legata all'ultimo movimento di questa fase cioè questo minimo il minimo del 9 di giugno perché perché considerando partito il nuovo mensile in il 23 di maggio avevo ipoteticamente pensato che vi faccio vi sposto diciamo i grafici così si vede meglio sul minimo del 23 di maggio avevo ipotizzato che questo questo movimento oscillatorio che poi è solo rumore in pratica oscillazione fosse una imperfezione cosiddetta lingua di buyer di una struttura ciclica superiore che potesse aver dato il via alla chiusura del famoso ciclo annuale ma il mercato dopo una partenza a razzo che sembrava proprio quella di un nuovo annuale ha invertito bruscamente e anche in maniera pesante ragazzi perché ha fatto 1 2 3 4 5 questa che è un fake che la domenica con un oggi siamo praticamente a quasi 7 candele rosse consecutive daily quindi un ribasso importante non un accosto da niente ovviamente non nell'estensione perché abbiamo già perso tantissimo ragazzi però nella sua struttura sicuramente questo ribasso annulla quella che era l'ipotesi che aveva avevo fatto qui ragazzi cioè la famosa ipotesi della lingua di buyer che avesse chiuso l'annuale per poi riprendere tant'è vero che io qui avevo ero rientrato con alcuni alcune posizioni con un 20 per cento ma andranno in stop quasi sicuramente ancora non ne sono convinto credo oggi prendendosi una pezzettino di perdita che vedete qui quindi questa parte qui perché perché il mercato ha fatto un fake break il break confermato anche in chiusura daily di questa zona dei 39 5 è stato fake ragazzi ok ogni tanto vedete come complicato il mercato cosa fa soprattutto nelle fasi di chiusura ciclica annuale che sono delle fasi importanti difficili succede di tutto la cina news di ogni genere queste sono le classiche insomma fasi di chiusura annuale l'ultimo annuale è successo il covid quindi pensate un po' ragazzi ok questa è purtroppo la questione la il fatto che questo minimo o questa fase di abbassista possa essere terminata qui e diventa a questo punto incerta perché perché con l'annullamento di tutto questo movimento al rialzo annullato completamente ormai da questa fase di abbassista fino a qui fino al giorno 17 tutto era ok ma già dalla giorno 18 in poi questo movimento praticamente era stato annullato perché il mercato aveva anche perso il suo livello di supporto questo che vedete qui ragazzi che era scusate l'ho disegnato malissimo questo che vedete qui che era la sua il canale dell'ascendente che si poggiava su questa trend line abbandonato questo livello di supporto con il giorno 18 di giugno la questione legata alla cosiddetta chiusura anticipata con una lingua di buyer viene annullata a questo punto e si ritorna nella normalità ciclica diciamo così quindi senza annullamento e ragazzi siamo nella chiusura del ciclo mensile ciclo mensile che è secondo me è iniziato il 23 maggio perché così è anche sulle altcoin mentre questo strancio del 19 ve lo ripeto è secondo me un eccesso di ribasso che bitcoin ha fatto su alcuni exchange per via della chiusura magari di posizioni e per il panico che si era creato ma poi le altcoin quasi tutte sono partite da qui quindi probabilmente questa fase è una fase di chiusura dell'annuale qual è la questione la questione è che il minimo in questione essendo più basso qui tecnicamente chiamerebbe un break di questo livello quindi probabilmente domani bitcoin o stanotte potrebbe andare a breccarlo è ovvio che siamo praticamente su un doppio minimo in questo caso triplo minimo quindi in realtà la differenza di pochi dollari non ha molto senso perché già nella giornata di oggi comunque bitcoin è sceso vi faccio vedere il livello che ha toccato oggi è 31 8 e 20 e questo era 31 0 75 quindi è un 2 3 per cento di differenza che praticamente è il nulla con una volatilità di questo tipo quindi si può considerare tranquillamente da qui in poi ogni minimo come una fase di chiusura del ciclo mensile di bitcoin c'è da dire che questo è un ciclo mensile che poi analizzeremo con calma una volta che sarà terminato e che il mercato ci avrà dato più informazioni perché in questo momento il rumore costante vedete qui il mercato ragazzi fa solo zig zag cioè in pratica non fa assolutamente nulla se mi metto il grafico lineare forse lo vedete meglio via nulla anche le medie così non disturbano la visuale guardate qui quello che sta facendo niente ragazzi sale e scende sale e scende sale e scende ma in sostanza è fermo in mezzo a queste vie però questo break come vedete di questa zona che poi va a definire anche il break di chiusura del famoso 8 di giugno è rilevante perché segna nuovamente la ripresa nel brevissimo di una struttura al ribasso perché vedete c'è questa situazione c'è anche da dire che la accelerazione ribassista qua la possiamo vedere in maniera più chiara perché vi ho tolto le shadow è leggera non è pesantissima quindi è che aggiorniamo i minimi i minimi però li aggiorniamo in maniera non così tanto profonda e questo mi fa ben sperare ragazzi come sapete io sto in questo momento andando a a ragionare con una situazione diciamo di possibile ripresa di un trend long che ovviamente dai dati trend following non è chiamato ragazzi perché il trend resta in questo momento un trend ribassista o laterale ribassista anche nel nel medio periodo però per una serie di motivi andatevi a vedere quello che è il mio video di domenica dove vi ho parlato anche del famoso death cross ma anche in video che andrò a pubblicare entro mercoledì credo quindi tra pochissimo che vi spiega qual è la nostra unica possibilità secondo me di scampare ad una serie storica deleteria diciamo per il mese di per il prossimo trimestre quindi giugno sarebbe luglio costo settembre ragazzi allora questa fase è una close del ciclo mensile più o meno intorno ai 30 come sempre se la fa oggi siamo tutti felici e contenti ma la probabilità che allunghi domani dopo domani è molto alta e dovrebbe andare a fare nuovi minimi ok vi faccio vedere anche ethereum perché anche ethereum soffre ma su le altcoin ragazzi me lo aspettavo perché le altcoin avevano ancora da chiudere la loro fase io ho detto bitcoin sembrava stesse aspettando le altcoin senza andare a fare nuovi minimi quindi avesse partito diciamo già iniziata la sua fase nuova ciclica nuovo trend aspettava le altcoin e poi ripartivano insieme invece purtroppo questo mia idea è venuta meno perché e bitcoin oggi è crollato fino a qualche giorno fa ci stava mentre altcoin non me l'aspettavo che andassero a ritoccare i minimi del giorno 23 però non pensavo che bitcoin potesse essere così debole tanto è vero che io di altcoin non ne ho praticamente ho solo un pochettino di ethereum che ho mantenuto ragazzi però ho tanti bitcoin che non è cambiato niente in pratica perché è lo stesso va bene allora dal punto di vista di struttura ciclica di ethereum siamo alla fase conclusiva di un movimento che è iniziato insomma il 28 febbraio e che andrebbe a concludersi entro breve tecnicamente un movimento ternario che vi faccio vedere in maniera abbastanza chiara ed è 123 questo movimento ternario è in fase conclusiva con quest'ultimo mensile mensile che è iniziato qui in questo caso è inequivocabile il 23 di maggio ora siamo a 29 giorni tecnicamente può allungare andare verso la somma fra qualche giorno un paio di giorni come vi dicevo andare a chiudere il ciclo in questione poi a dalla chiusura nel mese del ciclo di giugno che è un mensile anche su eth assolutamente evidente poi andremo a ragionare sulla possibilità di una nuova fase intanto qui trovate le vecchie medie ragazzi ormai ci sono le lasce comunque questa è una media 200 quindi vi ho già spiegato non le uso io diciamo per questa fase però la i livelli di supporto per eth sono il classico 1.970 che sta reggendo in questo momento poi abbiamo il minimo della giorno 23 di maggio che è a 1.755 questo minimo tra le altre cose dovrebbe essere tecnicamente rotto al ribasso da eth o comunque il mercato dovrebbe avvicinarsi il più possibile non c'è un vincolo ribassista per ethereum perché non ha una fase negativa tecnicamente importante come quella di bitcoin e quindi eth potrebbe anche resistere cioè il mercato potrebbe chiudere il ciclo di giugno senza andare a breccare il minimo vi ho messo anche un altro livello quello più in basso quindi se dovesse per caso andare a toccare i 1.700 qualcosa e distruggerli diciamo così crescerebbe intorno alla soglia di 1.500 lo so è un poco tasto fissa la questione ragazzi ma i mercati sono così questi mercati sono così allora eth sta chiudendo però un ciclo mensile secondo me anche bitcoin a questo punto l'unico problema è capire se lo fanno oggi domani o dopodomani purtroppo nelle fasi finali e soprattutto con la debolezza che bitcoin ha in questa fase aveva ritrovato una certa forza la scorsa settimana ma l'ha persa come forza relativa contro il crypto in questo momento contro le altcoin è da valutare e da stare molto attenti quindi l'unico mio consiglio ragazzi è di non esporvi tanto al mercato se lo fate solo con posizioni di brevissimo che riuscite a mettere in stop loss eccetera oppure di lunghissimo periodo che magari hanno ampio respiro e vi fanno espere di meno le posizioni di breve e di medio breve quindi una settimana 10 giorni sono sconsigliate è assolutamente sconsigliato anche secondo me eccedere nelle posizioni soprattutto in questa volatilità quindi mi raccomando bilanciate il portafoglio e togliete tutte quelle cripto che poi sono altamente rischiose vabbè comunque a parte di questo ragazzi adesso possiamo poi a vedere anche un'altra questione cioè quella legata alla agli indicatori di dominanze di market cap mi soffermerò poco sul dominanze perché in pratica ragazzi è rimasta dove era prima vedete bitcoin ha fatto questo super slancio poi le altcoin avevano recuperato nell'ultima settimana bitcoin aveva dato il filo da tolcere ad altre altcoin ma poi si è fermato in pratica la dominanza ancora è in questa fase e di rimbalzo però oscillazione generale quindi in pratica non ha nessun trend ragazzi è ferma qui c'è poco da dire in questa fase questi sono grafici settimanali quindi qui siamo a fine agosto ne aspettavo una ripresa più importante della della dominanze che ancora non è avvenuta c'è da dire che i precedenti cicli legati alla dominanze intorno a 450 giorni andrebbero a terminare a novembre quindi ci sarebbe ancora lo spazio per la famosa app generale di qui e poi chiusura di questa struttura e questa sarebbe una eventuale nuova fase di alzison che se il mercato fa questo disegno potremmo a vederla tra qualche mese ragazzi e quella è la nostra diciamo è una delle nostre possibilità di vedere i mercati nuovamente sui massimi intanto andiamo invece a vedere quella che è la total market cap perché sulla total market cap viene nuovamente confermata questa fase di chiusura della struttura ciclica annuale perché la struttura ciclica annuale iniziata vi tolgo anche qui i disegni iniziata a marzo scorso quindi con la struttura diciamo del 13 marzo con la questione della pandemia ha diciamo fatto la sua fase up e sta andando in una sua naturale fase di chiusura ora abbiamo fatto un minimo il famoso 17 maggio probabilmente il mercato sta tentando di aggiornare quel minimo e dovrebbe farlo a breve c'è anche da dire che questa è un altro grafico settimanale quindi potrebbe fare tutto entro questa settimana perché oggi è lunedì quindi questa settimana che vediamo la è rappresentata dall'intero mercato e potrebbe chiudere i giochi direttamente questa settimana stessa scendendo probabilmente al di sotto del minimo della market cap segnato a un 1.2 trillion dollar e quindi scendendo lì facendo un flash crash in pratica toccando questa zona da un che poi è corrispondente alle medie questa è la media annuale delle settimane quindi quella vera però non quella 200 modificata insomma quella 52 bene settimane potrebbe essere interessante una eventuale flash crash proprio in questa settimana andando a chiudere tutta la struttura annuale anche sulla market cap allora questo è quello che ci dice anche questo tipo di grafico quindi siamo nel pieno di questa fase di chiusura pensavo che bitcoin con il minimo della di dieci giorni fa avesse iniziato una nuova fase in realtà questo dietro front che è avvenuto negli ultimi giorni era inatteso perché il mercato aveva dimostrato anche una certa forza la scorsa settimana però nulla toglie ragazzi che dieci giorni una settimana in un arco di tempo come un anno e passa perché bitcoin non fa cicli annuali neanche da 360 ma li fa molto più lunghi quindi sono circa 14 mesi è ovvio che dieci giorni non fanno la differenza e lo so che è anche molto brutto stare in una fase di limbo come questa però tant'è che i mercati con la loro direzionalità ci danno sempre quello che è il concetto da andare a valutare cioè quello che riguarda il fatidico trend is your friend c'è poco da fare la fase annuale è ancora in fase di chiusura quindi non è stato chiuso il 9 è vero che il minimo ancora non l'ha toccato è vero che siamo in trading range tutto quanto ma un po di pericolo soprattutto dopo la questione cina è inutile c'è ovviamente in questa settimana quindi fate molta attenzione anche a questa settimana perché potrebbe essere una settimana molto importante proprio con un eventuale fresh crash magari qualcuno di voi fuori dalle posizioni quindi a qualcuno di voi se fuori potrei dire con eventuale fresh crash magari attenzionato un punto di ingresso con grande rilievo perché potrebbe essere interessante a chi è dentro invece si soffre anche io sono dentro sapete con alcune posizioni in old e sicuramente non sono diciamo non è stato un buon reingresso perché mi ha preso il fake break allora andiamo a vedere poi quelli che sono invece i livelli per la settimana così che da andare anche a fare un ragionamento su eventuali e punti di supporto allora il principale ormai lo vedete è palese 29 e 5 con l'estensione nella parte bassa di 28 mila dollari tutto questa zona qui anzi per la disegno così possiamo averla un po più chiara questa zona è una zona di enorme importanza per il mercato tutta questa fascia qui il mercato potrebbe in questa settimana andare a chiudere i giochi proprio scendendo con un flash crash e poi riportandosi magari al di sopra dei 29 5 purtroppo è uno scenario che preferivo non vedere per una serie di motivi perché potremmo assistere a tanto panico spero ancora che il mercato non faccia questa cosa comunque livelli di supporto essenziali 29 5 31 prima di 29 5 chiaramente ma praticamente c'è arrivato pochissimi minuti fa e poi abbiamo 29 e 5 e 28 k per quanto riguarda invece la fase rialzista c'è pochissimo da fare perché questa settimana era iniziata con l'opening a 35 6 questa notte è crollata tutta immediatamente la settimana proprio in apertura quindi è una black candle anche questa a livello settimanale è praticamente difficilissimo che questa in questa settimana il mercato dia un segnale long ma se lo dovesse fare insomma l'unico segnale long sarebbe un incremento è una chiusura al di sopra dei 42 mila dollari che è questa zona qui dovrebbe fare un'inversione importantissima è una candela disegnata un po come questa che vada poi addirittura ad essere una candela completamente verde e vada qui sopra tutto è possibile ci mancherebbe però è molto difficile l'estensione sarebbe importante anche in termini percentuali questa è una brutta candela la cosa che può fare è non chiudere malissimo ragazzi secondo me questa è la vera soluzione di questa settimana incrociamo le dita chiudiamo questo ciclo mensile che a questo punto è annullata la questione della lingua di buyer quindi siamo nella chiusura del ciclo mensile complicatissima la situazione so che molti di voi saranno confusi perché è veramente molto difficile spiegarvi in maniera semplicissima delle cose che sono veramente complesse e dei momenti complessi però questi sono i punti da tenere a mente giugno stiamo chiudendo il ciclo mensile probabilmente tra poco inizierà anche una nuova fase anche leggera anche il trading range sarà quella che ci darà l'indirizzo per i prossimi mesi questa è ancora la fase di chiusura precedente da quello che stiamo vedendo l'impulso rialzista la scorsa settimana non ha funzionato per bitcoin è strano perché piccolo non è uno strumento che fa questi fake soprattutto nelle fasi di chiusura annuale solitamente spara a zero non fa più entrare nessuno ragazzi quindi la cosa un po mi preoccupa anche da questi punti di vista un atteggiamento diverso dal solito per quanto riguarda il mercato cripto per quanto riguarda il re perché se chiude un ciclo riparto un ciclo a bomba difficilmente bitcoin avrebbe dato un ulteriore punto di ingresso così in basso e questo mi preoccupa un po vedremo un po di stare sopra il mercato mercoledì esce un altro super video vi spiego quella che è la possibilità storica nel trimestre q3 quindi il terzo trimestre dell'anno di poter diciamo creare un'anomalia che ci possa riportare nuovamente ai massimi ci giocheremo l'unica possibilità un po scherzato come la questione avengers va bene ragazzi per oggi è tutto buon inizio settimana ciao